E io so che tu pensi di lavorare ancora qui, ma credimi, non è così. Sei licenziato? Oh, perbacco. Andiamo, ho cercato... Mi ci vorrà un giorno per rimettere a posto quello che hai combinato. Un giorno? Posso sistemare tutto in meno di un'ora? È meglio se vai e chiudi il becco. Ok. Me ne vado, se è quello che vuoi. Sì? È stato un onore volare con te. L'onore è stato mio. Riposo. Allora, un'ultima cosa. È finita? Io non lavoro più per te? Beh, licenziato vuol dire questo. Bene. Allora avrei un'altra idea. Licenzi anche me? Allora. Ok, voglio solo puntualizzare che è per il momentaneo ingrossamento dei miei testicoli che il mio pene ti potrebbe anche apparire in scala. Sì. Fermo. Eccola, eccola qui. Non hai tolto tutta la zecca e quindi la parte si è gonfiata. Un po' come Hulk, ma solo le palle sono incazzate. Io credo che anche questo significhi amare. Guardare la tua ragazza che toglie una zecca dal pacco di tuo zio. Oh, sono la tua ragazza? Se è un maschio, chiamatelo Walden.